Se ti chiedi il perché, tutto quello che c'è, non puoi fare meno di, sarà tutto così. Nel mondo vedi che giustizia non ce n'è, milioni muoiono di fame, ma non succede a te. Se guardi poi i bambini che soffrono così, non puoi non pensare che potrebbero star bene. Perché il cibo c'è, terra lo produce, loro anche per te. Su c'è un'abbondanza di gusti e varietà, ed è una provvidenza che ricassa azietà. Ed è una prova che c'è un creatore, che ci ha dato tutto quel che c'è, perché dovremmo usare bene. Se c'è fame non è colpa sua, ma di chi non la sostiene. Nel mondo vedi che di fede non ce n'è, milioni vanno nelle chiese, ma non credono più. Si chiedono se c'è Dio, perché la guerra c'è. Se veniamo dalla scimmia cosa serve innamorare? Perché ognuno fa quello che gli impare, faccia bene a sé. Ma se pensi al male, è stato fatto qui. Pensarsi è normale, che coscienza c'è. Vedo una prova che c'è un creatore, che ci ha dato tutto quel che c'è, che dovremmo usare bene. Se c'è guerra non è colpa sua, ma di chi non la sostiene. Se c'è guerra non è colpa sua, ma di chi non la sostiene. Se c'è guerra non è colpa sua, ma di chi ne si crse e se ma di chi non lo... Nel mondo vedi che l'amore non ce n'è, ne parlano in televisione, ma non ne arriva a te. Si uomo è andato sulla luna, ma non c'è pace qui, ma la scienza può aiutarci ad avere le risposte che vogliamo noi. Perché non è caso di avere fatto ciò, ciò che ci circonda rivela qualità, amore e sapienza che non viene da noi. Ma è una prova che c'è un piatore, c'è un lato tutto quel che c'è. Che dovremmo usare bene, c'è odio e non è colpa sua, ma di chi non lo sostiene. Se c'è questo non è colpa sua, ma di chi non lo sostiene.